Come vediamo in questa grafica la pena è un'ammenda che va da 5.000 a 10.000 euro, quindi in pratica è un reato senza pena. Allora a che serve le chiedo? No, guardi, quella grafica è parzialmente sbagliata perché la pena principale è la sanzione da 5.000 a 10.000 euro, ma la pena accessoria, che è la pena rispetto alla quale il reato di immigrazione clandestina è stato istituito nel 2009, dichiarato perfettamente costituzionale dalla Corte Costituzionale nel 2010, la sanzione a cui si fa riferimento è la sanzione accessoria dell'espulsione. Noi abbiamo introdotto il reato e voglio far presente che il reato di immigrazione clandestina esiste sostanzialmente ovunque, in Europa esiste, in Germania, che tanti oggi citano, addirittura prevede il carcere da 1 a 3 anni, da noi non è previsto il carcere, è prevista la sanzione accessoria dell'espulsione. Il reato di immigrazione clandestina serve per espellere direttamente chi non ha diritto a rimanere sul nostro paese. Chi entra e soggiorna illegalmente, senza permessi, senza documenti, come avviene in qualunque paese del mondo, deve essere espulso. Mi consente di dire che il reato di immigrazione clandestina intasa i tribunali? Assolutamente no, perché il reato di immigrazione clandestina è di competenza del giudice di pace. Intasa le carceri? Assolutamente no, perché non è prevista la sanzione del carcere. Qual è il dato di fatto politico? Che mentre in Europa si discute di estendere il reato di immigrazione clandestina, estendere le norme sull'espulsione sui rimpatri, dare un giro di vite ai ricongiungimenti per difendersi e proteggersi, il dibattito della politica italiana e del governo italiano è se cancellare sia un reato di immigrazione clandestina. Chiudo dicendo, la sinistra contesta da anni la legge Bossi-Fini, che è la legge che disciplina il fenomeno dell'immigrazione sul nostro paese. La legge Bossi-Fini è del 2002. Chiedo a Migliore, se questa legge non vi va bene, e io credo che sia una legge sacrosanta, perché ancora l'ingresso nel nostro paese ha due principi, entri se hai un lavoro e se hai un reddito. Se questa legge non vi va bene, ed è la legge del 2002, dal 2002 a oggi, perché non l'avete ancora cambiata? Molto probabilmente perché c'è una allergia cronica della sinistra. Entri nel nostro paese se hai un reddito e un lavoro, ma se scappano dalla fame e dalla guerra, come fanno ad arrivare qua e ad avere già un lavoro e un reddito? Scusi, ma non facciamo confusione, non facciamo demagogia. Chi scappa dalla guerra lo accogliamo. L'ha detto lei poco fa. Scusi, chi scappa dalla guerra lo accogliamo e non c'entra assolutamente nulla col reato di immigrazione clandestina. Chi non scappa dalla guerra e non ha un lavoro e non ha un reddito non ha il diritto di entrare nel nostro paese. Si sa perché. Perché se uno non ha un lavoro e un reddito va ad alimentare le maglie della criminalità. Ed è il motivo per cui il 60% di chi commette i reati predatori, furti e rapine nel nostro paese sono immigrati.